E' stata una Pasqua dai sentimenti contrastanti per lo sport pesarese. Di amarezza e frustrazione quella della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro che con la De Longhi Treviso è incappata sabato nella quinta sconfitta consecutiva. Di gioia e gratificazione quella della Vispesaro che nella stessa giornata ha battuto Limolese spiccando un balzo in avanti forse decisivo nella lotta salvezza. Lotta salvezza che si fa più complicata per la VL che alla Vitri Frigorena ha perso 89-97 con Treviso. Pesante l'assenza di Justin Robinson risultato positivo al Covid-19, ancor più pesante la condotta arbitrale che ha mandato su tutte le fure coach Repegia allontanato per fallo tecnico che ha lasciato ai dirigenti Cioppi e Amadori ogni commento post partita. Come da regolamento l'arbitro ha chiesto al coach se voleva la rimessa nella metà campo difensiva o nella metà campo offensiva. Il coach gli ha detto ma secondo te dove la voglio la rimessa? Sono meno 6, mancano 34 secondi alla fine, se non sbaglio mi prendi in giro dove vuoi che la voglia la rimessa? E l'arbitro gli ha detto dove vuoi la rimessa? Nella metà campo offensiva o nella metà campo difensiva? Il coach gli ha detto in attacco, l'arbitro ha risposto grazie, il coach ha risposto prego e ha preso il secondo tecnico. Chiaramente questa è una mancanza di rispetto mostruosa nei confronti di qualsiasi tesserato che scende in campo, un atto di prepotenza da parte di chi conduce col fischietto la partita. Contro qualsiasi tesserato sarebbe questo, poi nei confronti di una figura, di un allenatore importante come repesa e corretto come repesa perché non escono mai parole di offesa o nei confronti di nessuno da parte del coach ed è un anno che sono al suo fianco quotidianamente. Credo che sia molto molto grave. Ci sono due cose, una che è una partita ben arbitrata è quando l'arbitro non si vede. E qui purtroppo questa sera si sono visti solamente gli arbitri. È una cosa veramente incresciosa. Poi faremo noi le telefonate e quello che dobbiamo fare come società. Però questa è una cosa veramente incresciosa perché l'atteggiamento di un arbitro in particolare, sapete bene chi, è veramente destabilizzante anche per chi si impegna tutta la settimana, tutto l'anno per far sì che le cose funzionino bene. Qui nessuno ha mai offeso un arbitro e quindi non è ammissibile che l'arbitro si giri verso il pubblico sfidando il pubblico guardandolo. Questo è destabilizzante, non è corretto, è una cosa che non è accettabile. Ora la VL proverà a rifarsi in casa della fortitudo, mentre nel calcio la Vispesero può avere un insperato match point salvezza anticipato domenica prossima ad Arezzo. Questo perché la vittoria 2-1 con Limolese di sabato ha spinto la Vis a sei punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Un tesoretto da difendere nelle quattro giornate restanti. Decisiva la doppietta di Gucci in un 2-1 perfino stretto per la condotta dominante che la Vis ha avuto sul Limolese bersagliata di tiri per tutta la partita. Da un po' di tempo a questa parte stiamo attraversando veramente, stiamo facendo veramente dei grandi risultati e il mergio è tutta dei ragazzi che sono veramente un grande gruppo che ha capito dove dovevamo andare e ci stanno portando appunto all'obiettivo prefissato. L'obiettivo è lì a portata di mano adesso e non ce l'avamo fa sfuggire. Troppe volte abbiamo fallito la partita da non fallire. Questa invece l'abbiamo voluta con tutte le nostre forze, giocando un buon calcio, creando tanti sforzi, se è l'unico ramarico dovevamo chiuderla prima per non soffrire fino alla fine. Però a questi ragazzi l'ha fatto solo un grandissimo applauso perché ha dimostrato di essere una grande squadra. Non abbiamo ancora fatto nulla, quindi per noi la partita di domenica diventa fondamentale, altrimenti il risultato che abbiamo fatto oggi va a morire, assolutamente. Noi dobbiamo andare ad Arezzo per fare la nostra gara. Andremo a Arezzo a cercare di fare la nostra partita e di prendere i tre punti che vorrebbero dire sì o no, non solo matematica, però di salvezza. Sei punti dietro la vis ci sono Legnago e il Fano che si tiene viva una fiammella di speranza di riagganciare la salvezza grazie alla bella vittoria in casa della quotata Feralpi-Salò. Un 2-1 siglato da Valò e Ferrara che conferma la crescita a Granata con Mr. Tacchinardi in panchina. Nel calcio a 5 è stato rinviato il big match dell'Ital Service contro l'Acqua e Sapone per i 5 casi di positività al Covid-19 emersi nella squadra pesarese. Intanto l'Ital Service ha conosciuto l'accoppiamento delle finale di Coppa Italia. L'avversario sarà la Color Max Pescara da affrontare in gara secca giovedì 22 aprile all'RDS Stadium di Rimini.